Questa è un bancomat di tipo operativo, assistito, di generazione futura che consente di fare tutte le operazioni bancarie, quindi sia di versamento, di prelevamento e funzionerà durante tutta la settimana anche con la presenza di un promotore finanziario nostro interno che offrirà tutti i prodotti bancari. Quindi è tecnicamente collegata con la filiale di Casalvelino Marina e ne diventa praticamente una dipendenza che sarà quindi anche servita laddove ce ne dovesse essere la necessità da parte di personale di quella filiale lì. Finalmente dopo tanto tempo credo che la popolazione di Valloscalo possa essere contenta perché abbiamo portato il servizio bancario anche in questo gruppo di frazioni che messe tutte assieme sono più grandi dei singoli comuni di Provenezza lo sappiamo che questo è un agglomerato civile che è formato da frazioni di quattro comuni il comune di Salento, di Omignano, di Castelnuovo e di Casalvelino. Un'altra tappa importante è sempre nell'ottica del servizio al territorio e alle popolazioni del territorio.